La relazione di un funzionario dei Vigili del Fuoco dopo l'incendio del luglio scorso era sembrata ad alcuni esageratamente pesante. Era infatti stata richiesta l'interdizione anche della preriserva di Monte Bonifato e delle aree circostanti e soprattutto la messa in sicurezza di alberi e massi pericolanti. Sono trascorsi quattro mesi con pochi interventi da parte delle istituzioni preposte anche il comune di Alcamo e ieri in piena notte un grosso masso è precipitato rompendo il guardarrail finendo sul tetto di una casa per fortuna nei pressi della trave in cemento armato. Per puro caso per alcuni lavori di pitturazione erano andati a dormire altrove chi solitamente dormiva in quella stanza una giovane coppia e il figlio letto di sette anni. Il fatto si è verificato intorno alle 4.30-5 del mattino e praticamente in quella stanza generalmente viveva mia sorella con il compagno e il bambino e per puro caso non si trovavano in quella stanza perché avevano dei lavori da fare insomma è stata proprio una casualità perché in questo momento saremmo aumentando una tragedia ben più grave. Stamattina le squadre SAF dei Vigili del Fuoco sono salite all'ottavo tornante della strada che porta su Monte Bonifato per frantumare altri due massi pericolanti e mettere in sicurezza l'aria. Si tratta di un pendio che sorge proprio al di sopra della casa colpita dal masso. I Vigili del Fuoco in pratica si sono sostituiti agli altri enti per evitare danni irreparabili a persone e cose che vivono alle pendici della montagna alcamese. Ritornando alla relazione sottoscritta dal funzionario lo scorso mese di luglio il documento faceva anche riferimento ai danni causati alla stabilità di rocce e massi dal terribile incendio del 2012 situazioni che sempre secondo quella nota sarebbero ancora presenti dopo 11 anni. Ieri guarda caso la caduta del masso e i danni all'abitazione che avrebbero potuto causare una vera e propria tragedia. Il comunicato stampa diramato dal sindaco Domenico Surdi di ieri parla però di immediato intervento della protezione civile ovviamente per l'episodio appunto della caduta del masso. Ci sarebbe da comprendere le altre eventuali responsabilità nell'ultimo decennio e gli interventi fatti e quelli non fatti sia da parte del comune di Alcamo che del libero consorzio per un monte bonifato che continua a vivere abbandonato a se stesso.